Una voce sta cantando, ma se un po' chi è da ascoltare, i gabbiani stanno gridando per poterla soffocare. Altre voci piano piano stanno crescendo da lontano, se quel canto vuoi seguire puoi cantare e così tu sarai uno in più con noi. E così tu sarai uno in più con noi.